tredicesima ripresa benvenuti ha preso un leggero vantaggio mentre se nel clan italiano c'è la preoccupazione per il verdetto affidato ad una giuria tutta americana vedete che benvenuti allontana con la mano la testa di Griffith e now benvenuti draws a warning Griffith is now picking up the pace apparently on orders from his corner manca montante destro benvenuti sull'attacco di Griffith ottimazione di benvenuti di cui pugilato era chiaramente più classico più bello da vedersi di quello di Griffith tocca col sinistro benvenuti sinistro e destro di benvenuti no round per lui questo molto lavoro per l'arbitro tenta col sinistro Griffith lo blocca benvenuti ultime battute della tredicesima ripresa è la quattordicesima ripresa l'arbitro è Mark Kohn of course it's academic what Mark Kohn says to benvenuti who understands no English he knows how to fight he knows how to fight though he knows how to fight though innumerevoli gli interventi dell'arbitro durante questo match un stile molto personale buon destro di benvenuti montante destro di benvenuti cerca di preparare la strada al destro benvenuti con un buon uso del jab sinistro prova col destro Griffith montante destro poi gancio sinistro di benvenuti molta fatica per l'arbitro e la conclusione della quattordicesima ripresa